Il Veneto, come tutte le regioni, è estremamente collaborativo, comunque fa la sua battaglia naturalmente con forza per salvaguardare gli interessi della sua popolazione, come fanno anche le altre regioni, quindi collaborazione e nello stesso tempo competizione con le altre regioni, che è il luogo perfetto per queste cose. La mostra è una meraviglia che raccoglie tutto quello che nei racconti anche familiari ho sentito e mi ha dato anche degli stimoli molto importanti, quindi devo ringraziare la Regione del Veneto che ha, penso, contribuito in maniera determinante a questa iniziativa. Grazie a tutti.